Il posizionamento dei nostri prodotti è in una fascia medio alta. Il nostro mercato è prevalentemente in Nord Europa, ma anche Stati Uniti e Giappone. Stati Uniti dove è particolarmente amato il gruppello, quindi questo vitigno, un torto, il nostro, che ha un'identità precisa, che è ben riconoscibile, per loro è facile perché ha un nome con bella, che li identifica molto bene, lo distingue dagli altri, non è riconoscibile, quindi si differenzia dai vini cileni, australiani, provenienti da qualsiasi altra parte del mondo, proprio perché ha questa sua identità specifica, che non ha già anche il vino del Roire e rappresenta proprio un territorio. Il vostro prodotto principe? Il nostro prodotto principe è chiaramente il gruppello. In particolare questo vino che si chiama Balossa, che deriva il suo nome dalla zona in cui è un prodotto. Un crui viene tutto dallo stesso vignetto. Questo vignetto è in una zona che va quasi naturale, dove crescono le orchidee sintetiche, che è una forma di vegetazione, c'è un geomicale, che lo rende un terroir, un territorio veramente speciale. E questo vitigno, come si è installato in questo territorio, si è espresso, credo... E adesso? Adesso li assaggiamo, per olio, vino, peperoncino e tutto.